Appena uscite dal forum dei giovani, i giovani della Russia e mamma ha fatto un'intervista pazzesca per sostenerli. Ti è piaciuto? Grandissimo, un'emozione grandissima, un grande... non c'era un grande affetto nei miei confronti e ammirazione. E poi ovunque siamo andate, in televisione, conferenze stampe, ci siamo sentite libere di poterci esprimere su tutto. Abbiamo parlato di pace, di eco-fashion. È stato bello, è stato bello poter dire la nostra. Oh my God! No, vabbè! Ognuno i suoi murales! Ciao, Ornella, piacere di conoscerti. Molto piacere, che onore! Che onore per noi! Io abito qua, non è per me. Però quando abitaste qua, ecco sempre. No, vabbè, ma io non so cosa dire, mi commuove, guarda. L'unica cosa, come per chi non c'è un condizionatore, non so se ti dispiace. No, è moderna, è originale. Hai conosciuto la mia figlia? È molto piacere. Piacere. Onorato. A chi lo dici? È veramente bellissimo. Ti presento i miei due soci che abbiamo lavorato in FI. Grazie. E lui è Gere. Gere, di ciao, è piacere. No, va bene, che emozione. E poi io sapevo questa cosa del nome e ho voluto divertire questo nome e sapevo che ci deve...